Continuiamo la nostra bella serie di tutorial sulla linea di comando, andando a vedere i comandi per la gestione delle directory ed anche una funzionalità tanto comoda quanto potente della shell, cioè la Brace Expansion. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Prima di parlare di Brace Expansion, pacciocchiamo un po' con le directory, ma per prima cosa installiamo il pacchetto tree, che ci permette di visualizzare il contenuto delle directory rappresentandole come un albero. Così possiamo avere un'idea sulla struttura delle directory utilizzando un unico comando. In questo video non entro nei dettagli di come installare un pacchetto, ma ti dico solo che se usi una distribuzione basata su Debian, come in questo caso Ubuntu, allora il comando per la gestione dei pacchetti è apt. Nel prossimo video vedremo i comandi di gestione dei pacchetti specifici per le varie distribuzioni. Ora che tree è stato installato, proviamolo subito. E qui vedi cosa intendevo per la presentazione ad albero. Già subito vediamo che la directory scrivania contiene tre file di testo, la directory snap contiene la sotto directory Ubuntu Mathe Welcome, che a sua volta contiene tre sotto directory ed un simlink. Ok, andiamo ora a vedere i comandi per la gestione delle directory. E in che modo i comandi che abbiamo imparato finora cambiano quando abbiamo a che fare con delle directory. Per creare una nuova directory il comando è mkdir, seguito dal nome della directory che vogliamo creare. In questo caso la chiamo provadir. Nota che se provo a dare il comando mkdir su una directory già esistente, mi dà errore. In uno degli scorsi video avevamo visto che per cancellare un file il comando era rm. Se però provo a dare il comando rm su una directory mi dà errore, dicendomi che si tratta di una directory. Il comando per rimuovere una directory vuota è rmdir. Importante! Il comando rmdir funziona solo su directory vuote, cioè che non contengono file o sottodirectory al loro interno. Il comando mkdir può essere usato anche per creare delle sottodirectory, anche quando le directory che le contengono non esistono. Per fare ciò basta passare l'opzione "-p", al comando mkdir, seguito dal nome delle sottodirectory da creare. E vedi che con un unico comando ho creato la directory provadir, che al suo interno contiene le directory sotto, che al suo interno contiene le directory sotto sotto. Differenza rispetto al comando mkdir senza l'opzione "-p", che se le directory esistono già, questo non è considerato un errore. Ora, se io voglio eliminare la directory provadir, non posso usare il comando rmdir perché la directory non è vuota. Come fare? Ci viene in soccorso nuovamente il comando rm, che con l'opzione "-r", cancella ricorsivamente le directory date come parametri e tutti i loro contenuti. Attenzione! Come avevamo visto anche per gli altri comandi, il comando rm-r non ha chiesto nessun tipo di conferma prima di eliminare tutti i contenuti della directory. Quindi, fai molta attenzione ai parametri che passi al comando prima di eseguirlo, che un errore in questo caso potrebbe costarti davvero caro. Ma torniamo a crearci le nostre belle sotto directory. Già che ci sono, copio anche il file prova1.txt dalla scrivania approvadir ed il file prova2.txt nella directory sotto sotto. Avevamo visto che per rinominare o spostare un file usavamo il comando mv e nel caso delle directory il comando mv funziona in maniera esattamente identica. Per esempio, per rinominare la directory provadir in test, basta dare questo comando. Oppure, per spostare la directory test nella directory pubblici, basta dare questo comando. E vedi che ora test è diventata una sotto directory di pubblici. Ma torniamo a spostare quella directory nella directory corrente chiamandola provadir. Per copiare una directory, basta utilizzare il comando cp, dandogli però l'opzione meno a. Per esempio, per copiare la directory provadir nelle directory pubblici, basta dare questo comando. Cancelliamo la directory appena copiata, giusto per fare pulizia. Oppure, se voglio copiare la directory provadir e chiamarla test, basta dare questo comando. Ok, cancelliamo sia provadir che test e passiamo finalmente alla nostra brace expression. Se tu apri una parentesi graffa e al suo interno metti delle parole separate da virgola, ecco che la shell espande ognuna di queste parole, facendole diventare ognuna un argomento separato per il comando che stai dando. La cosa bella della brace expansion è che se tu metti qualcosa prima o qualcosa dopo le parentesi graffe, queste saranno ripetute per ogni argomento, in questo modo. Se prima della graffa aperta metto la parola prova, ecco che la shell genera i parametri prova1, prova2 e prova3. Se dopo la graffa chiusa metto .txt, ecco che la shell genera i parametri prova1.txt, prova2.txt e prova3.txt. A volte può capitare che hai bisogno anche semplicemente di un argomento che contiene solo quello che c'è prima della graffa aperta e quello che c'è dopo la graffa chiusa, senza niente in mezzo. Per esempio, se oltre ai tre parametri visti poc'anzi io voglio anche passare come parametro prova.txt, allora basta mettere una virgola da sola tra le graffe. All'inizio e in mezzo alla fine non cambia niente. La vera potenza della brace expansion è che puoi utilizzare più di un elenco tra parentesi graffe ed il risultato sarà il prodotto cartesiano dei vari elementi, cioè verrà creato un argomento con ogni combinazione possibile tra tutte le parole e mezzo a tre graffe. Per esempio, se faccio un mkdir-p di provadir con sotto1, 2, 3, con sotto sotto 1, 2, 3, ecco che ho creato con un solo comando tutta questa struttura di editori annidate. Ma aspetta, c'è di più. Puoi anche annidare le graffe una dentro l'altra. E succede esattamente quello che ti aspetti. Prima di mostrarti cosa intendo, faccio che eliminare la struttura appena creata, giusto per fare pulizia. Ok, dicevo, se metto un A, B, C dopo il numero 3, ecco che mi ha creato le directory sotto sotto 3A, 3B e 3C sotto ogni sotto directory. Siamo arrivati a creare una struttura di 18 directory con un unico comando e neanche troppo lungo. Qui inizia ad apprezzare la comodità e la potenza della linea di comando. Quello che ci siamo detti sul Globe lo scorso video è applicabile anche alla Brace Expansion, cioè si tratta di una caratteristica della shell, quindi puoi applicare la Brace Expansion a ogni comando. Rovescio della medaglia, di nuovo, è che se devi passare un argomento che contiene delle parentesi graffe, devi mettere l'argomento tra singoli o doppi apici. Ah, già che ci siamo. Se uno degli argomenti nella Brace Expansion contiene degli spazi, metti solo lui tra singoli o doppi apici, in questo modo. Differenza rispetto al Globe, invece, è che il Globe lavora solo su file già esistenti, mentre la Brace Expansion lavora su sequenze di caratteri, dette stringhe, che possono corrispondere a nomi di file, ma possono anche rappresentare qualcosa di totalmente differente. Per esempio, io trovo la Brace Expansion utilissima per installare pacchetti da linea di comando, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Grazie dell'attenzione, ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey, trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video, ciao! Oppure, se voglio chiamare...